Aldo oggi 13 ottobre 2016 è arrivato in treno a Sondrio dopo due ore da Milano centrale Sondrio questa è la stazione di Sondrio non fa neanche freddo per essere in ottobre ecco adesso pian pianino io esco vedete i miei passi ho l'ombrello perché a Milano pioveva a Milano pioveva ecco i passi esco dalla stazione sto uscendo e hanno fatto la scala mobile nuova che bello hanno rifatto tutto qui rispetto a vent'anni fa Sondrio ecco la stazione la scala mobile come a Milano Sondrio e fa provincia è una città della Lombardia che fa provincia però non sembra città ha sempre l'idea di un paese ecco la stazione che la fotografo bene stazione della città che fa notevolmente scala mobile che bello treno adesso vado a vedere i bus di partenza che vanno alla Prica poi dalla Prica scendono in Valcamonica a Edolo vi saluto YouTube Aldo Maspero